buongiorno a tutti bentornati nel mio video ragazzi vi lascio questo mio breve video tanto per farvi compagnia ho preso le podes della dash che devo dire mi ci trovo abbastanza bene e ho usato l'ammorbidente alba questa è la prima volta che lo uso ora vediamo come viene e poi ve lo consiglio a voi ho passato l'aspirapolvere perché mi avevo fatto i capelli e giustamente c'erano peli sparsi in tutta la casa dopo di ciò mi dirigo nella sala da pranzo alzo la sedie e vado a passare anche l'aspirapolvere qua però non lavo per terra perché era quasi già l'ora di preparare il pranzo vado a pulire le spazzole con lo sgrassatore alba gel e scendo giù che mi è arrivato un pacco che nei prossimi giorni vi farò vedere cos'è metto la pasta quella che mi è rimasta nell'apposito contenitori così la mia dispensa è più sistemata mi sono fatto un bel piatto di pasta ragù ho messo il formaggio e ho mangiato e anche bevuto vado a lavare i piatti li lavo a mano perché erano pochi perché lo lavo staviglie e li avvio sempre la sera dopo aver fatto la cucina mi faccio un bellissimo caffè e mi godo il pomeriggio con la mia nipotina ragazzi se vi piace il video mi mettete un like e vi ricordo l'iscrizione al canale l'attivazione della campanella un bacio grossissimo e ci vediamo al mio prossimo video ciao 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 Grazie a tutti